Per una volta chi piange sul latte versato a tutte le ragioni del mondo. Latte Varese chiude i battenti spingendo al capolinea uno degli ultimi marchi del territorio che tra meno di due anni avrebbe spento 90 candeline e che invece oggi si ritrova a spegnere le proprie insegne. Non ci sono più i presupposti per poter continuare l'attività produttiva e quindi oggi è l'ultimo giorno di raccolta, produzione e consegna nei vari punti vendita di tutti i punti vendita varesini del territorio. Negli ultimi anni le difficoltà non sono certo mancate ma l'azienda aveva reagito a colpi di coraggio e progettualità. Da un lato nuovi investimenti, dall'altro nuove proposte di mercato. Tre anni fa abbiamo fatto un grosso investimento, abbiamo acquisito una macchina per fare latte Esd quindi non più produzione solo di latte fresco ad alta qualità ma addirittura latte Esd quindi a Shefflaf di 21 giorni questo ci avrebbe portato comunque a una migliore gestione dei prodotti sia sul territorio che internamente come gestione della produzione. Nonostante gli sforzi le tribolazioni sono aumentate fino a costringere l'azienda al concordato che aveva però acceso in continuità visto l'interesse formulato da alcuni imprenditori. Peccato che le intenzioni si siano risolte in un nulla di fatto. Gli interessati si sono chiamati fuori e nessun altro si è proposto di rilevare l'attività. Dopodiché ci si è messa pure la pandemia che ha accelerato i tempi, aggravato la crisi, spezzato le ali dell'auspicato rilancio consegnando lo storico marchio latte Varese a una strada chiamata Oblio. Purtroppo rimangono a casa 16 dipendenti e 10 agenti che sono i nostri piazzisti che consegnavano tutte le mattine presto i prodotti freschi in tutti i punti vendita della grossa distribuzione in tutti i negozi, panetterie e barra di tutta la zona. Insomma un altro brand del territorio saluta e se ne va lasciandoci con altre etichette, altri marchi, altre appartenenze. Forse ripensando alla mara battuta iniziale piangere sul latte versato non ha neanche tutto questo senso perché dello squisito latte Varese a quanto pare non ne abbiamo versato a sufficienza.